Un hacker ha preso di mira il consigliere regionale del nuovo centrodestra Giorgio D'Ignazio impossessandosi del codice personale identificativo del suo iPad ottenendo così libero accesso alla posta elettronica personale ai servizi di messaggistica e social network del consigliere. Per fortuna se ne siamo accorti prima che potesse creare qualche problema a me e quindi ha cambiato l'ITD e poi è finita bene, è chiaro che sul momento siamo impauriti perché avendo in mano la mia posta elettronica, il mio messaggio, tutto quello che diventando Presidente Giorgio D'Ignazio avrebbe potuto fare comunicati a nome mio. Chiaramente quando uno parla in prima persona si assume la responsabilità di quello che dice e quando parla per bocchia d'altri può creare qualche problema. è chiaro che poi in politica non ti si perdona niente e quindi è chiaro che una cosa del genere avrebbe creato forse più problemi. Per fortuna tutto si è risolto bene. L'assessore D'Ignazio attende ora i risultati dell'indagine della Polizia Postale per l'individuazione del pirata informatico.